Il gesto di prendere una penna e un foglio bianco di Luca Canal 104 Plus Telegram Il gesto di prendere una penna e un foglio bianco su cui scrivere è diventata una pratica sempre più rara. Si sta perdendo la capacità di scrittura giorno dopo giorno. Se prendiamo una penna ed incominciamo a scrivere ci accorgiamo che la mano fa difficoltà a scrivere con ordine le idee. La scrittura è utile per la nostra energia psichica. È un'azione benefica che ci aiuta a mettere in ordine i nostri pensieri. Il foglio bianco è come uno specchio della nostra interiorità sul quale scriviamo le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre riflessioni che restano come incise. Scrivere a mano è benefico anche contro la depressione, non lo sapevi. La perdita di questa pratica, ovvero quella di utilizzare la mano per scrivere, denota inoltre una capacità nel parlare perché nella scrittura c'è l'esigenza di mettere un verbo corretto, un soggetto preciso, un bel contenuto logico. Significa un ordine mentale. È fondamentale anche perché ci aiuta ad imparare per comunicare, non solo con noi stessi, ma soprattutto con gli altri. Scrivere con la mano su un foglio, sopra un'agenda, su un diario, vuol dire far emergere le emozioni, vuol dire mettere in ordine i nostri pensieri e far venire a galla la persona che ancora è dentro di noi. La mano che scrive lentamente pensa, genera memoria, crea salute, plasma energia psichica. È meditazione creativa, è saper vivere. Non dobbiamo perdere questa pratica sana. Scrivere aiuta inoltre a sviluppare il pensiero critico. Non esiste tanta differenza tra lo scrivere e il pensare. Sono tutte due funzioni dell'ascolto di sé, degli altri, del nostro essere. Scrivere bene ci aiuta anche a ponderare e riflettere meglio su situazioni e scelte che incontriamo nella vita quotidiana. La società moderna, la tecnologia, ci sta allontanando sempre più da queste azioni che prima facevano parte della nostra vita. Alleniamoci per non abbandonare completamente il patrimonio che abbiamo realizzato nel tempo prima di questo, ovvero la nostra parte creativa che ognuno di noi possiede ancora. Non sono solo gli occhi lo specchio dell'anima, perché anche un candido foglio bianco e una semplice penna racchiudono quella magia capace di far prevalere la nostra essenza interiore, la realtà di ciò che siamo veramente.